Ciao, buongiorno a tutti da Lantori, eccomi operativa con lago per il chiacchierino, mi trovo in sede ed ho realizzato questo schema piuttosto facile ma di grande effetto. E' uno schema che ho recuperato dal web, quindi non è una mia creazione, qualora voi vogliate riprodurlo potete trovare l'indicazione di questo schema nella mia bacheca Pinterest intitolata Schemi dal web. Vi inserisco nell'info box sottostante il link che vi porta appunto al mio profilo Pinterest. Lo schema come vi dicevo è piuttosto semplice, si compone di due parti, ho realizzato la parte centrale con un grigio scuro e la parte esterna con un argento. Ho utilizzato dei filati in poliestere, due dei quali li vedete fra le immagini, un argento brillante, questo che ho alla mia sinistra, mescolato con un argento barra color acciaio alla mia destra. L'effetto è veramente molto carino, le dimensioni sono piuttosto importanti, quindi potete pensare di realizzare questo schema per crearne dei sottobicchieri piuttosto che dei piccoli centrini. Lo schema è davvero bello, ripeto se lo volete realizzare trovate l'indicazione dello schema nel mio profilo Pinterest che trovate appunto nell'info box sottostante. Questo è il risultato che otterrete, spero che vi piaccia e che possa essere un'idea ulteriore per le vostre creazioni. Ci vediamo prestissimo con un nuovo filmato, ciao a tutti da l'alto.